Buongiorno! Buongiorno a tutti! Eccoci qua! Quindi abbiamo parlato di allergie respiratorie o allergie quindi dell'apparato respiratorio o allergie a qualcosa che si respira. Adesso parliamo delle domande che ci avete fatto e ci volete fare e se avete altre domande da fare aggiungetevi in chat per cui iniziamo come dire una sessione un po' di domande e risposte. Allora grazie Pietro buon pomeriggio esiste un'ereditarietà ci chiede Ilaria l'abbiamo un po' detto lei dice anche quando allattavo un'ostetrica mi diceva che l'allattamento preveniva anche queste possibili allergie. Le ostetriche correttamente cercano di spingere sull'allattamento al seno qualche volta nel farlo ci mettono uno zelo e cioè che sembra che la mamma che ha latti ha lo scudo bionico contro tutto il male del mondo sì piccole riduzioni ci sono ma se vai a vedere non è che ti eviti del tutto il rischio di allergie il messaggio è sempre lo stesso se hai il latte è davvero un peccato che tu non glielo dia se non c'hai il latte non ti sparare e si va avanti lo stesso a vivere ok per cui che il latte prevenga le allergie è vero ma in percentuali che non impattano sul fenomeno che siano ereditarie certo l'abbiamo detto anche se da padre in figlio da madre in figlio cambia sia il tipo di sintomo che è il tipo di allergene per cui può cambiare anche tutto e soprattutto potrebbe non esserci nulla si quantifica che se è allergico un genitore il bambino la bambina hanno il rischio di uno su tre se sono due genitori allergici ha il rischio di due su tre quindi c'è sempre un terzo di di sorte che magari ci va bene adriana quando si possono fare i test io sono allergica alla polvere vorrei verificare se lo è anche mio figlio però qui cadiamo nella risposta numero uno se un bambino non ha sintomi è inutile fare i test se un bambino ha sintomi test possono essere fatti anche molto presto non è vero non so quale leggenda metropolitana giri ma molto spesso mi si dice mi hanno detto che sotto i due anni non sono fattibili non è vero se un bambino ha una sospetta intolleranza alle proteine del latte vaccino non c'entra ma glielo faccio anche a tre mesi il test glielo faccio magari sulla schiena invece che sulle braccia non ne abbiamo parlato adesso ne parliamo un attimo del test che si fa però qual è il discorso che se viene positivo questo test ok è veritiero è positivo se viene negativo non vuol dire che sarà negativo per sempre ma bisognerà farlo quando è più grande per confermare o meno questa negatività quindi non c'è una età limite per poter fare i test ma non si fanno se non ci sono sintomi queste sono un po le risposte qual è il test soprattutto per gli allergeni inalanti cioè quelli di cui stiamo parlando oggi più indicato nei bambini è il cosiddetto prick test è quello che si fa sulla cute molto spesso delle braccia dell'avambraccio quando sono piccoli può anche sulla schiena e cosa succede che praticamente si ha una batteria di boccettini pieni di tutti gli allergeni che vogliamo testare sono delle gocce sono dei liquidi quindi c'è la graminacea l'accaro la betulla l'olivo il gatto eccetera eccetera quindi si prende la parte volare dell'avambraccio si riesce a fare una goccina di tutti questi allergeni a distanza chiaramente si fa una piccola puntura con una lancetta che non è nemmeno una puntura dove c'è la goccina dell'allergene si aspetta cosa succede anche un grattino ma insomma non deve uscire il sangue no e allora cosa facciamo proviamo tutti gli allergeni da una parte mettiamo l'allergene a cui tutti siamo allergici che è l'istamina stessa per fare il controllo positivo alla fine mettiamo l'allergene a cui nessuno allergico che è la fisiologica questi nostri due controlli ci permettono poi di fare una gradazione in base a quello che succede con gli altri cosa può succedere il ponfo come quando vi punge una zanzara più o meno grande in base a quanto è più o meno è grande il ponfo noi daremo un risultato che può essere in più due più tre più quattro più o meglio in millimetri in base a quello capiamo quanto può essere più o meno allergico un bambino questo è il test certo diciamo questo test ci dice due o tre cose la prima cosa è che è un test in vivo quindi non è teoria è proprio come reagisce quel bambino lì come reagisce la sua pelle la seconda cosa che ci dice è pensate a cosa vuol dire un'allergia la quantità minima che sta sulla punta dell'aghino che gratta la pelle è in grado di dare reazione quando c'è uno che dice sono allergico se mangio troppo salame ma non è un'allergia basta davvero tanto così per avere un'allergia quindi se dipende dalla quantità sarà un'altra cosa ma sicuramente non è allergia la terza cosa che ci dice è che se qualcosa viene positivo o negativo lo devi sempre comparare su come reagisce la tua pelle perché ci sono pelli che reagiscono di più e di meno e se la pelle si comporta così si comporterà così anche la mucosa del naso la mucosa dell'occhio la mucosa dei bronchi quindi due allergici vanno vicini allo stesso allergene non hanno la stessa reazione beh certo perché hanno una reattività diversa domanda beh e poi l'altra cosa che si prestava a dire la domanda è tu sei allergica agli acari della polvere la figlia non è detto neanche un po quindi è inutile andare a cercare la stessa allergia perché è davvero il probabile il contrario allora Carmela dice mio figlio che ha iniziato l'asilo è sempre raffreddato come si riconosce quando è raffreddato da raffreddore quando invece è l'allergia gioia bella anzitutto è poco probabile che abbia una rinite allergica nell'età dell'asilo perché di solito la rinite allergica viene fuori più avanti non è impossibile ma insomma è una questione di probabilità secondo il raffreddore ti dà anche la tosse ti dà il catarro e quando il pediatra lo visita trova l'orecchio rosso e ha la gola rossa e ha un inizio poi sta un po' peggio e poi dopo ha un miglioramento e una fine invece il naso tappato dell'allergia è una cosa perenne e si ferma lì cioè l'allergico ha un po' di candelina forse trasparente se no il naso che si tappa gli dà tanto prurito ma non gli viene l'attacco di tosse non gli viene il mal d'orecchie quindi sono i sintomi che trovi insieme ed è anche l'andamento nel corso del tempo che ti fa fare la differenza l'allergia non dà la febbre è vero che esiste la febbre da pieno ma francamente io di reazioni allergiche naso occhio al punto da arrivare a aver la febbre forse ne avresta una per cui diciamo che se il muco non è trasparente non può essere un'allergia normalmente il muco quello che esce dal naso di un allergico è acqua ma è un'acqua irritante queste sono le due caratteristiche forse che ci permettono di se è solo giallino bianco non può essere un'allergia se è giallo se è verdastro se c'è tra tutta una categoria di raffreddori non da allergia ma da virus allora qui invece adesso chiara ci dice viviamo in una casa da ristrutturare con la muffa sui muri non è la causa della salute chiara è certo che quella muffa lì non fa bene e può dare allergia in realtà diceva uno dei miei maestri se vivessimo vicino ai cammelli potremmo avere l'allergia al pelo di cammello cioè lì è l'uovo e la gallina non è che esiste l'allergia esiste l'allergia esiste l'ambiente d'accordo l'ambiente è fatto di muffa polli mucche acari eccetera se il mio sistema immune è tollerante buh io non sarà bello per la muffa ma non mi viene l'allergia se il mio sistema invece è intollerante e quindi tende a litigare con quello che incontra allora l'allergia dipende da quello che incontra se vivi in un posto dove ci sono gli struzzi diventi allergico allo struzzo se stai in un posto dove ci sono le muffe col tempo ti sensibilizzi alla muffa quindi sì è perfettamente possibile avere un'allergia alla muffa non perché è una cosa innata ma perché a starci vicino essere tu predisposto all'allergia prima o poi ti viene è uno dei motivi per cui da una parte una volta si diceva uno che è allergico a una cosa cerchiamo di non esporlo a troppe cose cioè in altre parole cosa voleva dire se per esempio hai un'allergia alle proteine del latte allora l'uovo il pesce eccetera li dai più avanti nello spezzamento poi si è visto che non era vero perché in realtà se tu certe cose le acquisisci prima le tolleri meglio che non dopo oppure rovescio della medaglia si diceva fai una bella vita nello sporco nella stalla così perché il sistema immunitario così c'ha così tanto da fare che non c'ha il tempo di sviluppare l'allergia cioè l'allergia era vista come se fosse come dire diozzi di capua del sistema immunitario anche questa si è rivelata una bufala semplicemente chi è predisposto a fare allergie prima o poi nella vita le farà prima o poi dipende da quello che incontra e dipende da quanto sana è la sua vita per il resto per quello che abbiamo detto lo vogliamo ridire alimentazione attività sportiva e sonno della notte potete fare un video sulla dermatite atopica volentieri quando stavo in italia emma quando stavo in italia avevo l'allergia al polline all'acoro e avevo l'asma trasferita all'estero non ho più nessuno di questi sintomi è bello l'estero dove sei andato se sei andato in groenlandia ci può anche stare perché in realtà se uno chiaramente non ci sono allergie sul ghiacciaio perché non c'è niente è ovvio che non sei andato a vivere sul ghiacciaio però per dire se cambi completamente ambiente può darsi anche che il tuo sistema immunitario nel frattempo sia maturato e quindi sia meno rissoso di prima meno litigante di prima hai perso il contatto con i tipi di polline le cose che ti davano fastidio e con quelli che hai trovato nuovi non hai niente da dire può essere altra cosa è se allora noi viviamo lo sapete sul lago di garda allora pianura padana e comunque nord italia è uno degli ambienti più inquinato di tutta l'europa ad esempio no più tu vivi in un ambiente inquinato più la tua bassa infiammazione respiratoria della mucosa respiratoria è alta e quindi è facile una minima quantità di allergene per darti una reazione se sei andato a vivere in un posto meno inquinato questo questo conta moltissimo certo e poi c'è anche da dire una cosa che forse lo stato di allergico nel senso di soggetto potenzialmente allergico dura tutta la vita ma le allergie non è detto che durino tutta la vita come i sintomi non durano tutta la vita allora c'è il bambino che da piccolo ha la dermatite atopica poi a un certo punto gli passa basta non è che è diventato gli è finita l'allergia sì certo non reagisce più a quello che prima gli dava fastidio quello che ha l'asma magari ce l'ha per un certo periodo poi arriva l'adolescenza e gli passa tutto oppure viceversa quello che non aveva nulla e a vent'anni gli viene un sintomo l'andamento nel tempo nel corso della vita può variare quindi non sono leggi immutabili della natura a parte che neanche la natura c'è leggi mutabili noi pensiamo che lo siano perché non le conosciamo cosa ne pensate del vaccino dessensibilizzante agli acari in caso di asma l'abbiamo detto cioè lo ridiciamo l'abbiamo detto nel senso che se i sintomi sono molto gravi e molto frequenti gli attacchi e questo soggetto bambino è allergico solo agli acari si può provare certo mio figlio 10 anni è allergico a acari polvere ulivo pelo del cane del gatto graminace esiste una correlazione con l'alimentazione ti vogliono male dal fatto la macumba cioè è chiaro che questa situazione adesso al di là dell'erroria speriamo che tutte queste allergie non gli diano grosso fastidio però si chiama polialergia un soggetto polialergico è uno davvero il cui sistema immunitario non trova pace è come uno irascibile che litiga con tutti c'è quello che litiga solo se lo chiamano in un certo modo c'è quello che litiga se lo guardano in un certo modo c'è quello che litiga basta che lo guardino è chiaro che le probabilità di avere incidenti cambiano allora chi ha molte allergie come il tuo bambino è più probabile che abbia sintomi ma non è detto però perché potrebbe essere uno solo di questi qui a guidare il gioco cioè magari lui sta male prevalentemente d'inverno perché ha gli acari della polvere che guidano il gioco e magari in primavera sta benino oppure no ogni stagione c'è il suo allergene quindi ogni stagione gli tocca fare cose e lì devi valutare proprio dal vivo cosa succede certo che lui potenzialmente è pronto a reagire contro tutto quindi potenzialmente potrebbe avere difficoltà importanti e quindi qua bisogna fare un buon lavoro di prevenzione sicuramente l'alimentazione non è una cosa da sottovalutare a mio bambino di un anno sono usciti dei ponfi sul braccio sinistro e sul viso dopo qualche giorno boh forse ha semplicemente un'orticaria sai l'orticaria è una manifestazione allergica se vogliamo il ponfo è lo stesso che si diceva prima quello delle prove allergiche la differenza è che nell'orticaria non c'è uno stimolo locale ma è autoprodotta spesso sono dei virus dei virus normali respiratori insomma che fanno scatenare l'eruzione è un altro capitolo rispetto a quello che stiamo dicendo adesso però ne parleremo abbiamo anche parlato dell'orticaria ho messo una pomata al cortisone nel tempo sono spariti e certo hai fatto bene per l'altra te l'ha consigliato posso dirti anche che però se erano ponfi la pomata al cortisone tutto sommato incide fino a un certo punto a meno che uno vada avanti a spalmarla per settimane la cosa più probabile è che sia spariti perché dovevano sparire in altre parole l'orticaria non dura una vita a un certo punto si estingue cioè è una stimolazione che fa un incendio e poi l'incendio si estingue quindi buon per lui che siano passati è orticaria questa è l'ultima che vedo se non se ne aggiungono il bambino allergico agli acari può essere esposto alla polvere della farina? eh certo che no nel senso allora ci sono diversi tipi di acaro e c'è anche quello della farina se è allergico a quello meglio di no chiaramente questo si può sapere facendo ad esempio i pre-test oppure si fa facile si vede cosa succede quando viene esposto alla farina se ha una reazione vuol dire che è allergico anche a quello poi cosa vuol dire esposto alla farina? certo che se il papà fa il fornaio e il bambino quando va a accompagnare il papà a lavoro perché vuole anche lui impastare la cosa gli si chiude il naso e gli si tappa il naso la diagnosi la fai da sola se invece stiamo dicendo può mangiare la pizza o posso fare le robe con la farina in casa quello non è un problema perché nel sacchetto della farina non ci crescono gli acari quello lo usi per cucinare è andato quindi non si dice che è allergico alla farina esistono degli acari che mangiano la farina come esistono degli acari che mangiano la nostra pelle e uno si sensibilizza a quegli affari lì certo beh se non ci sono altre domande noi abbiamo chiuso la nostra ora di diretta direi che è stata una bella chiacchierata anche perché le domande sono state esattamente come dire mirate su quello che volevamo dire e quello che vogliamo dire adesso è continuate a seguirci mandate le vostre domande sui social noi siamo qui su youtube ma siamo su instagram siamo su tiktok e siamo sul sito pediatalk.it fra l'altro lo sito pediatalk.it ne vedrete delle belle prossimamente perché stiamo facendo delle cose non vi diamo anticipazioni ma incominciate a girarci un po' che troverete cose e un'altra delle cose che possiamo dire è che forse fra un po' potranno leggere qualcosa di noi non ti pare possiamo digliela una cosina stiamo scrivendo un libro stiamo scrivendo un libro diretto ai bimbi più grandi e quindi i genitori di bimbi più grandi preparatevi che fra un po' avremo delle cose da dire nel frattempo buon weekend arrivederci ciao a tutti 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 ciao a tutti